Bertie scopre la neve. Nella foresta degli orsi è arrivato l'autunno. Guardate cosa so fare, grida Bertie prima di lasciarsi cadere in un mucchio di foglie secche. Nella neve è più divertente, dicono Wolfie e Willy, perché è molto più soffice. Che cos'è la neve, mamma? chiede quella sera Bertie incuriosito. La neve è una cosa bianca e fredda che arriva quando noi orsi andiamo in letargo, spiega mamma orsa accompagnandolo a letto. Ed ora fai un bel sonno fino a primavera, tesoro. Ma Bertie non vuole saperne di dormire. Deve scoprire com'è fatta la neve. Si alza di nascosto apre la porta e... che meraviglia! Tutto è bianco come il latte. Così è questa la neve. In inverno però fa buio presto e Bertie del buio ha una gran paura. Mamma, grida, dove sei? Ed ecco che all'improvviso appare una grossa slitta. La tua mamma è letargo, dice l'uomo con la barba bianca. E dovresti esserci anche tu. Dai, salta su piccolino. Ti riaccompagno a casa. Uhuh, si parte! In un batter d'occhio raggiungono la casa di Bertie ed il vecchio signore tira fuori tanti regali per lui e per la sua mamma. Oh, grazie tante! esclama Bertie contento. Ma tu non sarai mica? Shhh! lo interrompe Babbo Natale. È un segreto? Bertie crede di sognare. Rimane a guardare la slitta finché il cielo non la fa sparire. Poi via nel lettone di mamma. Oh, dimenticavo. Buonanotte! Fine 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 Grazie.